Ciao, sono Andrea Bazzani, responsabile marketing di Visit Maranello. Visit Maranello è il portale per visitare Maranello, Ferrari e il buon cibo. Visit Maranello propone dei tour su Maranello con Maranello Pass, una serie di attività che collegano il Museo Ferrari, quindi i motori di Maranello e i sapori di Maranello. Si può partire con delle attività visitando il Museo Ferrari, facendo test drive Ferrari, quindi guidando per strada una vera Ferrari, visitando una città tradizionale di Modena oppure il parmigiano reggiano. Grazie a Visit Maranello potete scegliere varie strutture alberghiere localizzate sia direttamente nella città di Maranello che anche nei paesi di Mitrofi. Ci sono strutture dalle tre alle quattro stelle e anche strutture in fase di realizzazione nei antichi borghi con delle torre che hanno oltre mille anni di storia. Perché venire a Maranello, ve l'ho spiegato, ma ricordatevi soprattutto una cosa fondamentale che continuiamo a dire da dieci anni, che a Maranello ogni giorno è un giorno bello.